Il vento dell'indifferenza Il vento dell'indifferenza La splendida voce di Erminio Truncellito ha introdotto il sit-in Io ci sono, organizzato in piazza Elettra a Marconia di Pisticci, grazie alla collaborazione di numerose associazioni. Impossibili da citare tutte. Insieme per unirsi, riflettere e guardarsi negli occhi a pochi giorni dalla morte di Matteo Barbalinardo, il 17enne ucciso per mano di un suo coetaneo che avrebbe confessato. Io ci sono ha voluto così lanciare molti messaggi, primo fra tutti che l'indifferenza uccide. Io ci sono! Grazie a tutti!